Stanco di pagare commissioni ai portali di prenotazioni online? Vorresti aumentare le prenotazioni dirette dal tuo sito web e di conseguenza i tuoi profitti, ma non sai come fare? Team System ha la soluzione per te. Valorizza la tua offerta grazie al sistema di prenotazione di Team System Hospitality e invita i tuoi potenziali clienti a prenotare direttamente dal tuo sito web. Presenta la tua struttura in modo accattivante. Fornisci informazioni chiare e dettagliate e consenti agli ospiti di prenotare il soggiorno desiderato in pochi clic. Dai la possibilità ai tuoi clienti di confermare l'alloggio, acquistare eventuali servizi aggiuntivi ed effettuare il pagamento direttamente sul sito in piena sicurezza, anche dal proprio smartphone. E se non ci sono camere o alloggi disponibili in quel momento, il sistema potrà inviargli un alert non appena si liberano posti. Con il Booking Engine di Team System Hospitality offri ai tuoi ospiti un'esperienza di prenotazione completamente digitale e incrementi le vendite dirette dal tuo sito web, riducendo così la dipendenza dai portali online e aumentando i tuoi margini di profitto.